Professore Tusa, stasera qui al Museo del Mare di Sciacca, una rappresentazione teatrale, in realtà è colpo di scena questo museo già l'ha avuto da Contrada Muciare, purtroppo quel nubifragio e adesso questa sede che sembra diventare definitiva per il museo? Definitiva, probabilmente sarà definitiva, però il sito di Contrada Muciare è comunque un bel sito che va comunque restaurato e va utilizzato in qualche modo, vedremo come utilizzarlo, certo questa è una bellissima sede, il museo è venuto benissimo, è stato molto visitato, ha avuto successo, quindi siamo estremamente felici che finalmente Sciacca ha un Museo del Mare che merita. Che cosa pensa che si possa fare nella sede di Contrada Muciare? Diciamo che i reperti sono tanti, quindi ci potrebbe essere anche, quando si parla di mare, il concetto di mare è enorme, quindi mare significa malacologia, quindi conchiglie, mare significa biologia, quindi anche acquari, mare significa archeologia, significa storia antica, storia recente, quindi si potrebbe anche diversificare l'esposizione, qua fare tutto ciò che è più antico, all'emuciare o fare qualcosa di più recente, è più legato per esempio alla malacologia, alla biologia, quindi diciamo una soluzione, si trova, l'importante è recuperare quell'immobile e mantenere questo però come presidio stabile di visita. Sindaca, fino allo scorso anno il Museo del Mare era da un'altra parte, poi purtroppo quel violento nubifraggio ha ridimensionato tutto e ha portato a spostare qui in pieno centro storico il Museo del Mare che oggi ormai è una realtà che però va comunque valorizzata. Sì, moltissimo, è bellissima questa location, dobbiamo dire la verità, così come merito va reso a chi ha consentito di rendere fruibile queste meraviglie e quindi va valorizzata certamente, si sta proprio parlando di questo, di un'idea di valorizzazione, di una rete museale, di una sorta di museo diffuso, che possa consentire di valorizzare quello che abbiamo ma anche di recuperare quello che in questo momento ancora non c'è. Io faccio riferimento ad alcuni beni che sono anche al Palazzo Abatellis, delle ceramiche antichissime che appartengono a Sciacca, così come la valorizzazione di opere d'arte pittoriche che dovrebbero trovare giusta collocazione, così come anche implementare le ricchezze che ci vengono dal mare sia per quello che riguarda questa sala ma anche per quello che riguarda la sala d'armi, cioè i cannoni e tutto quello che attiene a quella sala. Quindi è un discorso aperto, è un progetto a cui si è già messo mano, ho avuto varie interlocuzioni con la soprintendenza ma anche con dei riferimenti scientifici importanti dell'università, proprio per creare questo museo diffuso con le varie sezioni per quello che ci riguarda e quindi per dare finalmente visibilità a Sciacca anche sotto questo punto di vista. Questo luogo permette sicuramente una maggiore fruizione turistica anche perché rispetto al Museo del Mare che aveva dei problemi incontrato a Mucciare, che aveva dei problemi come sappiamo per quanto riguarda anche la strada, qui sicuramente i numeri di turisti che vengono a visitare questo museo ci sono e lo conferma quest'estate appena trascorsa. Sì sì ma peraltro siamo in pieno centro storico quindi è perfetto, anzi andrà pure a nostro avviso valorizzato l'esterno anche con delle attrazioni di spettacoli consoni ovviamente alla realtà che possano richiamare i turisti non soltanto in estate. Una rappresentazione per raccontare il mare come fonte di vita, di conoscenza e soprattutto di cultura in un posto che fino a poco tempo fa non era il Museo del Mare. Beh sì è il luogo più adatto, questa è un'istituzione che mancava a Sciacca e che doveva esserci perché la tradizione marinara e la tradizione soprattutto storica di Sciacca non può essere lasciata passare in cavalleria. Quando c'è stato chiesto di fare qualcosa per il Museo del Mare con mio fratello Antonio abbiamo deciso di scegliere alcuni percorsi attraverso parole e musica su quel grandissimo prisma che è il mare. Il mare veniva chiamato da Omero l'infinita distesa del mare salato e in questa distesa si possono trovare infinite vie, le possiamo tracciare. Bene, queste rotte possono essere infinite anche nel mondo della cultura perché il mare è stato sempre fonte di ispirazione per poeti, letterati, per gli storici e anche per la scienza. Noi traccieremo alcune di queste rotte, declineremo il termine mare attraverso tutti quegli aspetti che i poeti e i letterati ci ridanno. Il mare può essere vita, può essere fame, può essere ricchezza, può essere viaggio, sofferenza, fuga, salvezza, fine e così via dicendo. Credo che usciranno fuori almeno 50-60 sostantivi che sono la declinazione del termine mare. Il mare è un prisma, anche realmente sulla Terra è una sfera con infinite sfaccettature, quelle scaglie di mare di cui parlava Montale. L'uomo si è sempre specchiato e ha visto tutto nel mare che credo sia lo specchio dell'universo e di tutto quello che c'è. Noi con le nostre forze cercheremo di dare un assaggio di tutto questo con parole e musica. Si cercherà da questa sera di avere un utilizzo diverso di questo museo a Sciacca che è al di là dell'attrazione turistica che può avere dei reperti importantissimi che in questo sono custoditi? Sicuramente e lo si deve fare. Questa è un'istituzione importantissima. Spesso l'istituzione viene mossa anche dalla volontà e dall'energia di uomini che privatamente, anche con grande sacrificio, si affiancano all'istituzione ma molto spesso, anzi quasi sempre, hanno bisogno che l'istituzione ci sia. Quando si ha la fortuna di trovare questi soggetti che con grande volontà, sappiamo anche chi sono, portano avanti un'istituzione così importante, questi devono essere appoggiati perché Sciacca è un po' carente sotto l'aspetto culturale. Questo è un museo, è un luogo che quest'estate ha avuto migliaia di visitatori. Cosa meglio di un museo del mare può rappresentare molteplici sfaccettature di Sciacca?